Grazie a tutti. La costa d'avore non risulta ancora stabilizzata in termini di sicurezza sociopolitica, in ragione dell'elevato pericolo di tensioni ancora sussistente che rende particolarmente lento il decorso di normalizzazione, motivo per cui può ritenersi altamente verosimile che, ove l'interessata dovesse farvi ritorno, ella correrebbe tuttora un rischio di grave danno. Grazie a tutti.